L'armadio della mamma è perfetto! E l'armadio della figlia? Beh, è piuttosto difficile da guardare! Aggiungo lucentezza! Bello! Un timbrino! Lo avevo dimenticato! Wow! Ellie, ho letto un articolo che dice che i timbri per il trucco sono alla moda adesso! Ne ho uno anche io! Ti piace? Oh mamma! Voglio essere alla moda come te! Allora? Oh! Sono senza parole! Guarda! Siamo così alla moda! Eccolo! L'ho trovato! Porterò questo rossetto con me! E prendo anche questo! E una spazzola! Perché no? Sono pronta! Un libro! E se volessi leggere? E mi servirà anche la lacca per capelli! Un porta-pranzo? Frutta! Ho bisogno di vitamine! E poi questo specchio! Anche questo mi sarà utile! E un ukulele? Non si sa mai! E se piovesse! E se piovesse? Beh, prenderò un ombrello! Spero di non aver dimenticato nulla! Cosa metto oggi? No! No! Jeans, comodi e una maglietta sono perfetti! Cosa mi metto oggi? Questo è carino! No! Non lo metto! Questo l'ho messo ieri! È troppo colorato! Tesoro! I jeans e una camicetta sono sempre una buona idea! Oh no, mamma! Non esiste! Ne lascerò qui! No! Questo colore non è alla moda! Ciao, mamma! Questa è la mia ragazza! Mi sto divertendo così tanto con te! Oh, Dave! Anche io! Ma ho davvero sonno! Immagino che la nostra conversazione ti stia facendo stancare! Lascia che ti accompagni a casa! Sì, scusa! Un divano! Ciao! Sono qui per la festa! Si balla! Tutta la notte! Ogni notte! È mattina! Ellie è a casa! Che bello! Facciamoci un selfie! Certo! Pronta? Sorridi? Mamma! Perché hai usato quel filtro? È orribile! Penso che sia divertente! Sì, sì! Alzo la musica! Anche io suono molto bene! Gli adolescenti hanno bisogno di musica e di ballare! E naturalmente di cantare! Anche la mamma ama la musica! Un accappatoio comodo! Un tè caldo! Una bella rivista! Ora posso accendere la musica e godermela al massimo! Devo sistemarmi il viso! Aggiungiamo un po' di gloss! Perfetto! Ho bisogno di sistemarmi il viso! Cirotti idratanti! Oh! Fatto! Sono così bella! Oh no! Ora devo raccogliere tutto! Ascoltare la musica da sola non è divertente! Cosa stanno facendo i miei amici? Dovremmo andare al bowling! Grande! Cosa faccio nel mio giorno libero? E se incontrassi gli amici? Non li vedo da un po'? Ciao amica! Che ne dici di uscire insieme? Scusa, ma sono al cinema con mio marito! Oh, certo! Goditi il film! Ciao tesoro! Vuoi prendere un caffè? Ciao! Non posso! Il mio bambino si è appena svegliato! Capisco! Ciao! Sono tutti impegnati come al solito! Sono esausta! Prendo un sorso di tè e vado a dormire! Cosa c'è che non vai in questo cuscino? Non riesco a dormire! È un libro, non aiuta! Devo rilassare! Una melodia calmante! No! Non vedo l'ora di addormentarmi! Speriamo che la mamma stia già dormendo! Uh! Il letto! Cosa? Si gela fuori! Ok, metterò i paraorecchie! Ellie? Mamma? Tesoro, ti congelerai là fuori! Mamma, rilassati! Ho i paraorecchie! Mettiti un cappotto! Oh, ragazzi! Il mio telefono! Dov'è? Nella borsa? Giusto! Devo solo trovarlo! Quanta roba! Perché mi porto dietro tutto questo? Eccolo! Finalmente! Pronto? Qualcuno sta chiamando! Quanta roba! Ma dov'è? Eccolo! Ciao! Oh, sì! Arrivo! Cameriere! Ecco il menù! Un doppio espresso, per favore! Io prendo un mocaccino con topping al cioccolato! Ecco a te! Che cos'è? E un doppio espresso! Tutto qui? E com'è un espresso singolo? Una buona mattina e inizia con un caffè forte! Perfetto! Ora mi occuperò della colazione! È il pasto più importante della giornata! Come va l'uovo? Fatto! Aggiungo le erbe aromatiche! Bello! E il caffè! Cosa? Sono in ritardo! Ellie! La colazione! Buongiorno! Questo è per te! Cos'è questo? Che schifo! Non ho fame! Devo lavare questo top rosso! E il resto è bianco! Va bello! Laverò insieme! Nessun problema! Cos'è? Oh no! È rovinato! Anche se... Il rosa mi sta bene! Cosa? Ellie ha mischiato di nuovo vestiti bianchi e colorati! Ora basta! I vestiti rossi possono aspettare fino al prossimo giro! Gnammi! Nutella! È la migliore! Più Nutella c'è, meglio è! Ecco fatto! La mia torta al cioccolato è pronta! Gnammi! Mi godo un po' di torta! Farina! Uova! Latte! Presto sarà pronta! È importante non bruciarla! Ha un profumino così buono! Mamma, sono in bagno! 40 minuti dopo... Mamma! Un asciugamano e... E il telefono! Grazie, mamma! Ellie, anch'io ho bisogno del bagno! Sei lì da un'ora! Va bene, sto uscendo! Grazie! Il superpotere di ogni mamma è fare qualsiasi cosa in due minuti! Ti è piaciuto il nostro video? Scrivi qui sotto chi ti è piaciuto di più! La mamma o sua figlia? E metti un like al video! Iscriviti al canale e clicca sulla campanella! Per non perdere nessun nuovo video esilarante di Troom Troom!